Musica Beh no, tutti quanti comunque l'abbiamo tenuto abbastanza bene insomma, l'abbiamo limitato perché adesso non so quanto abbia fatto Ivano, comunque siamo riusciti a contenerlo ed era uno degli obiettivi primari di questa partita di quello che avevamo deciso di fare tatticamente anche perché sappiamo delle sue ultime prestazioni e su di questo abbiamo cercato di dargli un occhio in più insomma, soprattutto noi lunghi sapevamo con chi avevamo a che fare in che stato è insomma, ha fatto due ventelli le ultime due partite e quindi ho cercato di limitarlo il meglio possibile diciamo che non è scontato ma comunque è quello che mi è richiesto di fare, essere comunque sempre pronto a entrare in partita immediatamente ed è quello che ho fatto personalmente ho solamente fatto quello che mi ha chiesto di fare l'attore mettendoci la massima intensità molto semplicemente beh è molto importante come ogni, ovviamente ogni vittoria è importante questa qua lo è ancora di più perché sapevamo di avere a che fare con una squadra in forma innanzitutto abbiamo cercato di provare durante tutta la settimana tutti i particolari la cosa che ci è riuscita meglio è il fatto che tutto quello che ci siamo detti di fare durante la settimana siamo riusciti ad applicarla oggi mettendo la massima intensità questo innanzitutto è un grande obiettivo raggiunto oltre alla vittoria ed è anche un'ottima iniezione di fiducia non è per nulla facile questa partita, proprio per nulla e averla vinta ci sta, insomma, ci dà un'ottima iniezione di fiducia basta questo